A distanza di tre settimane dal ribaltamento della cisterna contenente il lattice liquido che causò l'inquinamento ambientale di terreno e pozzi per l'irrigazione e lo sversamento della sostanza in un laghetto artificiale nelle vicinanze che diventò un lago di lattice bianco, il lago bianco è ancora bianco, più bianco non si può. Queste sono le condizioni in cui si trova ancora oggi il lago Valentini, questo è diventato di questo color latte per uno sbarramento che è stato fatto dall'azienda che nelle prime ore ha tentato di arginare l'uscita del lattice dalla cisterna, è stato creato uno sbarramento 50 metri più a valle e così per evitare che il lattice e il liquido arrivasse più in giù di qui è stato deviato il flusso appunto di questo liquido nel lago. A me preoccupano più che altro i tempi di ripristino di tutte le situazioni come erano prima perché il lavoro è grosso, il margine è tutto da rifare, sono diversi mesi di lavoro secondo me, però sono più ottimisti loro. Cosa vi hanno detto quelli che stanno bonificando l'area? Che in una decina di giorni forse si riesce a svuotare l'acqua però bisogna vedere se piove, sono diverse cose, comunque non ci sono dei tempi precisi. La pompa che c'è qui cosa serve, qual è la funzione? Di svuotare tutta questa quantità di acqua con delle cisterne che ci sono forse 400 metri da qui. La vostra acqua è potabile in questo momento? Ci è stato dato il divieto di usarla quindi anche quella del pozzo ci faranno sapere. La scorsa settimana si è tenuto un tavolo tecnico per fare il punto della situazione e valutare lo stato dell'arte in quella porzione di terreno dove si sta lavorando per bonificare tutta l'area e le ordinanze, ben 5 emanate dal comune di Fano a tutela delle persone e degli animali sono ancora in essere, fino a data da definire. Arpam è sempre sul posto a monitorare sia il lago che i vari corsi d'acqua. La ditta che è intervenuta ha provveduto ad isolare il lago, ad evitare dietro comunque sia la nostra emissione di un'ulteriore ordinanza con la quale imponevamo la ditta di mettere in atto immediatamente le misure di messa in sicurezza di rimuovere il prodotto disperso e di mettere in misura, come dicevo, di mettere in atto le misure di messa in sicurezza d'emergenza per evitare che la contaminazione raggiungesse ulteriori siti. Che tempi prevedete voi come ufficio tecnico per un ritorno più o meno alla normalità? L'acqua del lago è tanta. La ditta, come dicevo, sta provvedendo allo suo svuotamento. Successivamente alla fase di messa in sicurezza dovrà essere eseguita un'indagine ambientale per verificare se le matrici sono state o meno impattate. E qualora fosse così inizieremo un procedimento di bonifica.